L'oggetto numero 14, risponde la Presidente Tesei, ospedale da campo finanziato dalla Banca d'Italia, chiarimenti in merito, do la parola al Consigliere Fora. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, buongiorno alla Giunta e alla Presidente. L'interrogazione ha come oggetto l'ospedale da campo finanziato dalla Banca d'Italia. Leggo direttamente il dispositivo così vado più veloce. In data 7 aprile sul sito della Regione Umbria è stata pubblicata la nota stampa di presentazione di un ospedale da campo attrezzato fino a 30 posti in terapia intensiva, completamente autonomo da poter allestire in qualsiasi luogo. Questa dotazione della Regione dell'Umbria è stata progettata dalla Regione, finanziata da Banca d'Italia per un importo di 3 milioni di euro. Da quello che abbiamo appreso, la tenso struttura esterna e il contenitore praticamente già esistente. È una struttura già stata utilizzata per alcune emergenze, tra cui il sisma dell'Aquila, ma risulterebbe priva, come fermato dall'ingegner Stefano Nonodessi, della strumentazione adeguata a fronteggiare emergenze simili a quelle tipo Covid-19. Con il progetto in questione abbiamo appreso, si ammodernerebbe detta struttura, di un potabilizzatore ad oggi mancante, che alimenterebbe tutta la fornitura di acqua, di tutte le strutture mediche che grazie a questo progetto saranno acquistate, trasformando la struttura in un ospedale in grado di trattare 30 degenti con patologia virale e strumentazione per la terapia intensiva. La riflessione sui ospedali da campo, in funzione anche di ciò che è stato realizzato in altre regioni italiane, tra cui la trionfale operazione annunciata alla Fiera di Milano, che con un costo di 21 milioni di euro aveva previsto la realizzazione di 200 posti letto e ad oggi realizzati solo in parte e al centro di critiche e polemiche, è attivabile anche in funzione della scelta dell'ospedale da campo e della motivazione per cui è stata scelta questa destinazione delle risorse, anche in funzione del fatto che abbiamo appreso anche da pareri medici che una struttura di terapia intensiva difficilmente può funzionare se non integrata con tutte le altre strutture complesse che costituiscono un ospedale, in quanto i pazienti in terapia intensiva necessitano della continua valutazione integrata di altre figure professionali, non solo dei rianimatori e degli infermieri, ma anche degli infettivologi, dei cardiologi, dei nefrologi, dei chirurghi. Immaginiamo che queste considerazioni siano state prese in carico al momento di scegliere questa opzione da parte della Regione Umbria, che altrimenti avrebbe potuto proporre a Banca d'Italia il finanziamento di altri progetti, magari partendo da miglioramenti o estensioni di strutture già esistenti nella nostra Regione, come del resto abbiamo appreso avvenuto in altre Regioni con finanziamenti di Banca d'Italia, che in tutte le Regioni italiane hanno finanziato interventi territoriali e in molti casi hanno finanziato interventi che hanno riguardato l'estensione o il miglioramento di strutture già esistenti. Nella stessa interrogazione rileviamo, rilevo che nell'atto di adozione che la Giunta regionale ha assunto del progetto, specificatamente nel documento istruttorio, il progetto è stato approvato in modalità riservata in quanto la sua divulgazione potrebbe essere lesiva del principio di segretezza e della par condicio. Per queste motivazioni chiedo alla Giunta e alla Presidente se sono state valutate altre possibilità per l'utilizzo delle risorse di Banca d'Italia, oltre la possibilità che poi è stata assunta, cioè quella di finanziare un ospedale da campo. Quali tempi sono previsti per la realizzazione in funzione del fatto che è stato annunciato che entro fine maggio sarebbe stata realizzata e inaugurata l'opera? Se e a quali motivazioni risponde l'adozione della delibera che ha assunto in modalità riservata l'atto? E infine se è possibile conoscere quali procedure sono state messe in campo per l'acquisto del materiale necessario e qual è il livello di trasparenza e di pubblicità che verrà dato agli acquisti e alle procedure che esplicheranno la gara in funzione della realizzazione del progetto. Grazie. Grazie Consigliere Fora, la parola alla Presidente Tesei. Sì, grazie Presidente. Gentile Consigliere, credo che sia opportuno ripercorrere un po' anche le date, l'evoluzione di questa questione che ha portato poi al finanziamento da parte di Banca d'Italia di questo ospedale da campo. Il primo incontro da cui nasce quest'idea si è avuto il 23 marzo quando ho incontrato il nuovo direttore della filiale della Banca d'Italia di Perugia, dottoressa Miriam Sartini, con cui avevo avuto già modo di instaurare un rapporto proficuo nell'interesse della nostra regione, qualche settimana prima. E mi avvisava per le vie brevi che c'era la possibilità per Banca d'Italia di finanziare un progetto in qualche modo dedicato alle questioni dell'emergenza sanitaria per l'attualità e per il futuro. Questo progetto avrebbe dovuto avere la caratteristica di essere un progetto ben definito e finalizzato a fronteggiare appunto l'emergenza, ma che fosse stato utile anche alla regione Umbria in futuro in uno scenario emergenziale anche diverso. Solo così, con un progetto definito e unitario, avremmo potuto accedere e sperare di ottenere questo finanziamento, che non era assolutamente scontato, ma si basava naturalmente sulla possibilità riservata al direttorio di Banca d'Italia di valutare il progetto per ritenerlo più o meno, sì o no, meritevole di essere finanziato. A quel punto, visti i tempi anche molto veloci e molto ristretti, mi sono naturalmente confrontata con la sanità e con la protezione civile e abbiamo proprio pensato ad una possibilità di realizzare uno strumento completamente autonomo, come può essere l'ospedale da campo, che avesse potuto far fronte sia all'emergenza che stavamo vivendo e sia in futuro anche a qualsiasi altra situazione emergenziale. Quindi, su questo ci siamo concentrati per avere subito un progetto definitivo da poter sottoporre alla valutazione di Banca d'Italia e per questo, per vie brevi, mi confrontai con il dottor Nodessi, con l'ingegnere Nodessi e il dottor Dario per realizzare un progetto chiuso e chiave in mano che avesse le caratteristiche della massima efficienza, trasparenza e realizzabilità. Il progetto, che ha visto anche la consulenza gratuita di tre medici militari, i quali avevano gestito già in passato strutture campali e che collaboravano gratuitamente con il nostro Cor, mi fu consegnato proprio la sera del lunedì 30 marzo e il giorno stesso immediatamente girai questo progetto alla dottoressa Sartini con una lettera di accompagnamento che sintetizzava i principali pregi della proposta anche ai fini del conseguimento della donazione. Per la Regione sarebbe stata inoltre l'occasione di valorizzare il campo tentato esistente donato nel 2009 alla protezione civile regionale e trovato, come tutti sanno, sprovvisto di attrezzature ospedaliere di cui prima all'origine era dotato. Alla fine della stessa settimana, per le vie brevi, la dottoressa Sartini mi preannunciò con entusiasmo che il direttore aveva sposato il progetto dell'Umbria e che lo avrebbe finanziato. Il 7 aprile arrivò la lettera di conferma del Governatore Visco e per massima trasparenza indicemmo subito con la dottoressa Sartini una conferenza stampa nella tarda mattinata proprio per la presentazione del progetto che era stato ritenuto dal direttorio di Banca d'Italia meritevole di finanziamento e anzi ci fessero i complimenti per la compiutezza del progetto presentato e la velocità con cui lo abbiamo redatto. Quella stessa sera feci inviare una mail dal mio capo di gabinetto ai dirigenti potenzialmente coinvolti nella fase attuativa del progetto in cui li informavo della missiva del Governatore Visco e chiedevamo per il prosieguo procedure veloci nel rigoroso rispetto della legge e della trasparenza nei confronti di cittadini e donatore. Subito dopo l'arrivo dell'accredito di Banca d'Italia avvenuto il 17 aprile 2020 abbiamo adottato la delibera di giunta la 282 che ad oggetto emergenza nazionale da rischio sanitario Covid-19 allestimento dell'ospedale da campo di proprietà della regione Umbria con risorse messe a disposizione da Banca d'Italia corredate di un documento istruttore esaustivo e completo. In particolare per quanto concerne proprio il quesito e naturalmente relativo alla scelta di allestire un ospedale da campo credo che sia sufficiente la motivazione riportata nella stessa delibera dove si legge testualmente che dal riscontro dei dati sull'antamento dell'epidemia risulta che l'Umbria ha raggiunto il picco dei ricoveri nella prima settimana di aprile ed attualmente si sta assistendo ad un lento miglioramento che se non verrà correttamente gestita la seconda fase di uscita dall'isolamento domiciliare della cittadinanza rischia di far riprendere una nuova ondata pandemica. Per quanto sopra appare strategico dotare la regione di una struttura sanitaria complessa, mobile, da affiancare oggi la rete ospedaliere in basso alle attuali necessità e da poter utilizzare anche in futuro per la gestione di queste e di eventuali altre emergenze a carattere locale o nazionale. Considerato che lo stesso rappresentante italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e Consulette del Ministero della Salute ha dichiarato che una seconda ondata di epidemia in autunno è oggi più che un'ipotesi. Riguardo alle finalità dell'investimento ritenute meritevoli da parte di Banca d'Italia e solo per le quali è stato richiesto e concesso il finanziamento, la deliberazione regionale al punto 1 del deliberato esplicitamente dispone di prendere atto della volontà espressa dalla Banca d'Italia di concedere un finanziamento pari a 3 milioni di euro, finalizzato all'allestimento di un ospedale da campo dotato di strumentazione sanitaria idonea a gestire fino a 30 pazienti in terapia intensiva e subintensiva. Pertanto sulla base di questo indirizzo è stato dato in carico alle strutture tecnico-amministrative regionali di espletare le procedure conseguenti con l'unica prescrizione della dovuta urgenza nel rispetto della normativa di settore. La Giunta ha correttamente demandato agli uffici, in base al criterio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa, ogni determinazione in ordine alle procedure più confacenti al raggiungimento degli obiettivi dati, in coerenza con i principi di economicità, efficacia e imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità che presiedono il corretto agire amministrativo. E proprio nel rispetto di questi valori il progetto sulla base del quale è stato ottenuto il finanziamento è allegato alla deliberazione in modalità riservata, in quanto destinato a costituire il fondamento della procedura di evidenza pubblica rispetto alla quale sono in corsa approfondimenti istruttori e da parte degli uffici finalizzati, all'individuazione della procedura di scelta del contraente, degli elementi essenziali del contratto di appalto, dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice degli Appalti e delle indicazioni dettate dalla Commissione europea con la comunicazione 2020-C-108101, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 1 aprile 2020 e il conseguente Vatemecum Anac per affidamenti rapidi durante l'emergenza e nella fase 2, approvato dal Consiglio dell'autorità nell'adunanza del 22 aprile 2020. È evidente che nel rispetto di quanto sopra in particolare dell'articolo 68 del Codice degli Appalti, gli atti e documenti di cara saranno predisposti avendo cura che il riferimento ad eventuali marchi, brevetti e o tipologie specifiche di prodotti avvenga senza un documento per la tutela della concorrenza e al tempo stesso con la finalità di acquistare prodotti che soddisfino al meglio le esigenze della stazione appaltante. In osservanza le disposizioni in materia di appalti pubblici all'esito della fase istruttoria tuttora in corso, la documentazione di cara e la sua completezza sarà resa pubblica, con le forme più ampie, al fine di assicurare la piena trasparenza e la massima partecipazione alla procedura aperta che a breve verrà indetta. Come Presidente della Regione, in qualità di autorità territoriale e di protezione civile, eserciterò le funzioni anche di vigilanza nel pieno rispetto del ruolo e dei poteri e delle responsabilità che mi sono attribuite dal decreto legislativo 2 gennaio 2018 numero 1. Il fatto di aver sentito che ci sono forti perplessità e dubbi o riserve in merito all'urgenza dell'investimento, io credo che i propri risultati raggiunti dalla Regione Umbria nel fronteggiare la situazione di contagio dovrebbero indurre invece ad apprezzare che l'iniziativa de qua volta non solo a dare risposte immediata all'emergenza, ma anche a garantire in ottica prospettica un'efficace azione di prevenzione, come raccomandato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, nella quale si afferma testualmente che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione e previsione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario e urgente per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale. Non dimentichiamo che l'emergenza nazionale dichiarata per questa fase pandemica fino al 31 luglio, proprio ieri anche in sede di conferenza delle Regioni, si è ipotizzato un prolungamento fino a fine anno. Questa è la situazione, anche perché da più parti nel mondo scientifico si parla di possibile ritorno pandemico ad ottobre. Ora ciò appare tanto più vero in considerazione dell'obbligo anche istituzionale di difendere e non vanificare il risultato raggiunto in Umbria di contenimento del contagio, non potendo escludere purtroppo il rischio del ritorno. In merito ai costi dell'allestimento, come più volte evidenziato, questi saranno contenuti nei limiti del finanziamento concesso, con l'obiettivo di conseguire il miglior rapporto costi-benefici, presidiato proprio dai principi e dalla procedura di evidenza pubblica che ho appena richiamato. Con riferimento all'ultima richiesta, il rispetto da parte degli uffici di tutti gli adempimenti di pubblicità legale previsti dal Codice degli Appalte e degli Obblighi di Trasparenza, di qual decreto legislativo 33-2013, questi consentiranno a tutti i consiglieri, come a qualunque cittadino, di essere compiutamente e tempestivamente informati di tutti gli atti che saranno assunti per l'affidamento di cui trattasi dall'inizio e dall'indizione della gara fino alla giudicazione, fermo restando le prerogative di accesso che agli stessi sono riconosciuti in funzione dello svolgimento del mandato. Quindi, chiariti questi ripercorsi in fatto e in diritto, questi elementi che mi sembrano siano assolutamente chiari e dirimenti, e ferme restando naturalmente le motivazioni a supporto del progetto che naturalmente ha convinto Banca d'Italia al finanziamento e quindi a fare questa scelta, vorrei condividere con il consigliere Foro alcune considerazioni di scenario e di carattere strategico, indispensabile nella misura in cui l'Umbria vuole provare a gestire anche la fase 2 in totale sicurezza e possibilmente la fase 3, che è quella dove si prevede anche una possibile riacutizzazione della pandemia da ottobre in poi. Quindi l'ospedale da campo è necessario ad incrementare velocemente e in modo elastico le nostre dotazioni ospedaliere per far fronte ad una riacutizzazione della pandemia, già in fase 2, magari potendo gestire un eventuale focolaio con una struttura sanitaria limitrofa. L'ospedale da campo è utile in quanto una delle prescrizioni indicate dal Ministero della Sanità per proseguire con la fase 2 e non tornare in lockdown e che le terapie intensive presenti sul territorio non siano impegnate per più del 30%. L'ospedale da campo è una potenziale risposta alla probabile prescrizione del Governo di avere anche un ospedale Covid dedicato già dalla fase 2, richiesta che altrimenti sarebbe difficilmente sostenibile per l'Umbria. L'ospedale da campo è utile già dalla fase 2 in quanto consente di alleggerire la pressione Covid, anche potenziale, sulle strutture ospedaliere attualmente impegnate, consentendo in ipotesi di rendere codifree alcune di esse con enormi vantaggi anche di sicurezza per la popolazione. Come facilmente intuibile, è utile ad un'eventuale fase 3, come ho detto precedentemente, che tutti naturalmente speriamo non si verifichi, ma di cui anche in ambienti scientifici si parla insistentemente. L'ospedale da campo è intuitivamente utile all'Umbria anche in una fase 4, ritorno alla normalità, visto i tristi trascorsi emergenziali di questa regione negli ultimi 25 anni. Non dimentichiamoci che quella struttura che andrà ad ospitare naturalmente l'ospedale, cioè tutti i macchinari e quello che serve a realizzare un ospedale da campo perfettamente funzionante di alta tecnologia è rimasta vuota e nel 2009 era stata donata la protezione civile proprio con questa finalità dell'emergenza. Quindi diciamo che ci sono tutte le condizioni e noi abbiamo effettuato questa scelta nel pieno convincimento dell'utilità per la nostra ragione di avere un ospedale da campo con 30 posti di terapia intensiva e subintensiva, tutte le attrezzature necessarie per la sua autonomia, utilizzabile sia in estate che in inverno, con 30 ore di autonomia dell'ossigeno da portare in qualsiasi luogo del territorio Umbro, sia in affiancamento ad un ospedale e sia anche in modo autonomo. In ultimo la voglio informare che il bando di gara per l'avvio della procedura aperta partirà entro pochi giorni e confidiamo, salvo complicazioni amministrative, di poter presentare e di avere l'ospedale da campo entro il 30 di giugno. Lei ho visto che nella sua, forse per un errore, aveva detto 30 maggio, ma abbiamo sempre ipotizzato il 30 di giugno. Grazie. Grazie Presidente. Consigliere Fora per la replica. Sì, io ringrazio la Presidente per la ricostruzione precisa, anche sul piano cronologico, come dire, delle date molto puntuali. Dovendo esprimermi rispetto alla risposta, mi dichiaro soddisfatto per quanto riguarda la, diciamo così, rassicurazione delle procedure che verranno messe in campo e del livello di trasparenza che ad esse verrà dedicato. Oggi finalmente è stata fatta chiarezza rispetto anche a quel dispositivo di giunta, non chiaro apparentemente rispetto alla secretezza degli atti che lasciava, come dire, qualche margine interpretativo. Oggi ci viene detto che la procedura sarà espletata con tutte le forme di trasparenza e pubblicità possibili e questo credo che sia una garanzia per questo organo e per i cittadini. Continuo a essere perplesso e di conseguenza, come dire, moderatamente soddisfatto della risposta perché ritengo che lo stesso obiettivo, cioè il potenziamento della terapia intensiva per l'emergenza, poteva essere realizzato ugualmente potenziando strutture ospedaliere già esistenti come del resto è stato fatto in molte altre regioni con finanziamenti di Banca d'Italia, piuttosto che pensare a un ospedale da campo dove mi risulta che anche le stesse strutture macchinari laddove non vengano utilizzati per molto tempo siano soggetti poi ad alto tasso di invecchiamento al di là della non presenza contigua di servizi specialistici ospedalieri. Spero che i tempi, e su questo invece la risposta mi rassicura, siano quelli che oggi la Presidente ci conferma, alla luce anche del fatto che oggi leggo su un quotidiano che il Sindaco di Bastia Umbra, un vostro Sindaco, conferma che presso l'ospedale, presso il centro di Bastia, presso Umbria Fiere verranno solo depositati i macchinari e non verrà montata la senso struttura. Quindi come dire ancora evidentemente c'è un po' di confusione, la risposta di oggi da un lato sgombra il campo da una serie di evidentemente cose non chiare, sulla finalizzazione delle risorse rimango con le perplessità che ho espresso. Grazie. Accordo Regione Umbra-Sanità Privata, la parola al Consigliere Bettarelli. Grazie Presidente. La mia è un'interrogazione che prende spunto sostanzialmente da informazioni che come sempre avvenuto in queste settimane, in questi mesi abbiamo letto sui giornali. E quindi parto con i giornali. Parto da un giornale del 2 di aprile che titola Test rapidi in un centro privato. 2 aprile. Poi forse anche a causa di una visita dei NAS, che poi sarei anche curioso di sapere che cosa hanno trovato visto che la Regione li ha mandati, il giorno successivo si legge sui giornali Test rapidi a 70 euro tutto rinviato. Quindi uno stop a cui poi fa seguito tutto rinviato, apriamo però un tavolo di confronto e siamo al 3 di aprile. Non si sa più niente, fino a quando con una delibera di giunta, giustamente, quindi un atto ufficiale, prendiamo atto che è stato siglato con la delibera numero 277 del 16 aprile 2020, un accordo quadro appunto tra la Regione e l'Associazione Italiana di ospedalità privata e l'Associazione Religiosa Istituti Sociosanitari per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell'emergenza. Quindi siamo al 16 aprile e ancora non si sa niente di quello che è un accordo con la sanità privata sul settore diagnostico, quindi test e quant'altro. Fino a quando, sempre con un comunicato, qualche giorno fa, il 5 di maggio se non sbaglio, leggo che coronavirus definite le disposizioni per i test nei laboratori privati. Si legge un protocollo con una serie di prescrizioni per l'esecuzione di test sierologici presso i laboratori privati, previa prescrizione del medico, si deve invitare poi il soggetto a rientrare al proprio domicilio in caso di positività e una serie di piccole prescrizioni. Io quello che chiedo è intanto di capire se la questione diagnostica rispetto ad un accordo pubblico-privato si è esclusivamente limitato a questo piccolo protocollo. Mi risulta, l'ho anche scritto, ma insomma è sulla cronaca di tutti i giornali, che tante regioni abbiano fatto accordi di altra natura, soprattutto abbiano messo nelle condizioni coloro che sono più esposti, i lavoratori della sanità, ma non solo, tutti coloro che sono esposti, di poter usufruire anche attraverso convenzioni con il privato di test gratuiti. Qui ovviamente i test il privato li fa, ma li fa ai prezzi del privato e soprattutto vorrei capire perché in questa fase in cui tanto la regione Umbria giustamente spinge per le aperture il 18, giustamente lo sottolineo, come mai non si usa un accordo tra pubblico e privato per far sì che il 18, coloro che riaprano e mi auguro che in sicurezza siano tanti, possano fare degli screening, non dico gratuiti, quasi, e che i costi non siano completamente a carico delle aziende che riapriranno, perché se si vuole riaprire, si vuole riaprire in sicurezza, la sanità pubblica deve fare degli accordi con la sanità privata per venire incontro alle tante persone, ai tanti operatori, alle tante imprese che riaprono. Io capisco che è difficile mettersi al tavolo con dei soggetti a cui prima si è mandato in ass, perché la politica dovrebbe avere un suo ruolo e non lo svolge attraverso, almeno a mio avviso, le funzioni attraverso un altro organismo che ha altre funzioni, ci si mette intorno al tavolo, si ragiona, capisco, ripeto e concludo, diventa difficile ragionare con coloro a cui si è mandato in ass, però io credo che questo sia il compito della politica. Grazie. La parola all'assessore Coletto. Grazie Presidente. L'interlocuzione con alcuni rappresentanti del sistema della diagnostica privata non è avvenuta per raggiungere un accordo, insensolato naturalmente, ma per rendere coerenti gli interventi dei laboratori privati con l'organizzazione della sanità pubblica per la gestione dell'emergenza Covid-19. L'utilizzo di test sierologici è stato preceduto in una fase sperimentale che ha previsto la scrinatura di circa 1200 persone, in cui sono stati utilizzati i test immunologici in parallelo con il test su tampone faringeo. Tale fase è indicato un potere predittivo molto alto dal test immunologico negativo, molto meno importante in caso di esito positivo. Il valore predittivo del test sierologico in lettura contestuale al test molecolare ha dato un esito positivo del 28% di esito positivo del test molecolare, mentre ha dato un esito negativo al 96% di esito negativo del test molecolare. Nell'attuale fase non esiste un test in cui sia riconducibile un valore predittivo certo ed assoluto. L'utilizzo contestuale dei test immunologici è quello di offrire una risposta rapida che consente la scrinatura di grandi numeri che possono consentire, ad esempio, di delimitare le cosiddette zone rosse. Si tratta di mettere in atto tutte le procedure a disposizione per una gestione coerente dei pazienti da parte del Servizio Sanitario Regionale, che ha necessità di assicurare in condizioni di emergenza il controllo di tutte le attività di gestione dell'epidemia. Pertanto le associazioni di categoria dei laboratori privati Federlab, Anisap ed Osap sono state destinatari di una nota in cui venivano notificate le disposizioni per l'esecuzione di test sierologici per Covid-19, ratificate in seno al Centro Operativo Regionale in data 2 maggio 2020. Che si precisa, nella stessa nota, saranno oggetto di rivalutazione in base all'evoluzione degli scenari epidemiologici e delle cosiddette conoscenze scientifiche. In tale documento si prevede che l'esecuzione di test sierologici presso i laboratori privati avvenga secondo le seguenti prescrizioni. Il test deve essere eseguito previa prescrizione del medico. L'esecuzione dell'esame deve avvenire nel rispetto dei rigidi protocolli di sicurezza e protezione definiti nel laboratorio per evitare diffusione del contagio. Deve essere raccolti con senso informato del soggetto all'esecuzione del test e alla trasmissione dei risultati ai fini del controllo epidemiologico dei competenti servizi e dipartimenti di prevenzione dell'azienda sanitaria locale. L'informazione al soggetto deve specificare le caratteristiche del test, le finalità, i limiti e il significato e i risultati del test. La necessità di trasmissione dei dati anagrafici e sierologici all'azienda sanitaria di assistenza per le esigenze di sorveglianza e tutela della salute pubblica. La necessità di permanere a domicilio, in isolamento volontario, in caso di positività sierologica, nel rispetto delle indicazioni dettate e competente dipartimento di prevenzione, in attesa dell'esecuzione di un test molecolare e relativo referto. L'evoluzione dell'iter, ovvero che in caso di positività del test molecolare si attiva l'isolamento contumaciale. In caso di positività del test, sia per IgM che per IgG o che per IgM e IgG contemporaneamente, si deve invitare il soggetto a rientrare al proprio domicilio e quindi a mantenere l'isolamento anche dei propri familiari, almeno fino al risultato di un tampone molecolare programmato dal Dipartimento di Prevenzione competente per il territorio, che gestirà il caso. Chi ha effettuato il test sierologico deve immediatamente segnalare il caso positivo a un servizio di igiene e di sanità pubblica competente del territorio per i provvedimenti del caso. Anche per i test sierologici rapidi in immunocromatografia deve essere garantita la tracciabilità della prestazione. Anche per i test sierologici rapidi in immunocromatografia deve essere garantita la presenza di un referto firmato contenente le specifiche del test utilizzato. L'esito del test, sia positivo che negativo, deve essere comunicato all'azienda sanitaria tramite l'inserimento di sistemi informatici regionali di biosorveglianza. Aggiungo solo che c'è stato uno stop momentaneo e un dialogo con i lavoratori privati, visto considerato che non c'era normativa per la gestione di queste situazioni da parte del privato. E il giorno successivo, cioè il giorno 3, è partito nel circolare del Ministero che prevedeva appunto la prescrizione medica per questo tipo di test fatto dai privati. Grazie. Consigliere Bettarelli per la replica. Sì, ma non trovo nemmeno il termine per definire il grado di insoddisfazione rispetto alla risposta, nel senso che era sufficiente leggere il comunicato stampa, quindi noi ci troviamo qui in Consiglio regionale sostanzialmente e noi facciamo l'interrogazione, l'assessore viene e ci legge il comunicato stampa che ha mandato la Regione qualche giorno fa. Se questo è il modo di trattare consiglieri regionali democraticamente eletti, io rimango allibito, colgo solo due aspetti politici, il primo che quindi mi conferma che la Regione ha mandato i NAS presso il laboratorio e il secondo che non c'è nessuna strategia rispetto allo screening anche in collaborazione con i privati sui soggetti più esposti e sulle attività che riprenderanno il 18%. Grazie. 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 Grazie.